Ben ritrovati a tutti quanti in questo appuntamento periodico fisso su Formula 1 in generale dove in ogni weekend di gara della Formula 1 andremo a analizzare quello che succede il venerdì e il sabato e la domenica con un video al giorno per capire al meglio e per interpretare nel miglior modo quelli che sono i weekend di Formula 1 Oggi è stata la prima giornata del Gran Premio di Cina del 2024 Non correvamo su questa pista, nella pista di Shanghai dal 2019 poi interrotta ovviamente per i problemi che ci sono stati dovuti al Covid E oggi sono contento di essere qua per raccontarvi quello che è successo nella prima ed unica sessione di prove libere di questo weekend visto che appunto ci sarà la sprint e per andare anche a commentare le qualifiche sprint che ci sono state stamani alle 9 e mezzo Come ogni volta andiamo a fare una panoramica generale di quelli che sono gli aggiornamenti che i team hanno portato sulle loro vetture Non ci sono state particolari novità tranne per Alpine e per us Alpine ha portato un fondo totalmente nuovo a partire dall'ingresso dei tunnel di venturi fino a tutto quanto la parte sottostante della vettura che noi non vediamo che va a concludersi poi nel nuovo estrattore Anche Alsa ha portato delle novità minori sul fondo dei nuovi specchietti e anche delle piccole migliorie al cofano per far respirare meglio il motore della loro vettura Tutti gli altri hanno portato degli aggiornamenti minori che non vanno a incidere drasticamente sulle prestazioni tipo Mercedes che ha aggiunto dei piccoli deflettori sulla parte alta dell'alo per andare a pulire quelli che sono i flussi diretti verso l'ala posteriore La Vicarbo è invece andata a modificare quelli che sono i piloncini di sostegno che stanno sopra l'aeriscope Niente di drastico Ci tengo a sottolineare che il Russell ha montato una nuova power unit mentre invece Ricciardo, Stroll, Alonso ed Albon hanno montato un nuovo cambio Nessuno di loro andrà in penalità Weekend di gara che sarà totalmente diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora proprio perché ci sarà la prima sprint race dell'anno Sarà tosta per tutti quanti i team visto che una sola prova libera in un tracciato diciamo nuovo per questa tipologia di vetture soprattutto con un nuovo manto stradale ora non è proprio un nuovo asfalto ma è stato praticamente sparso, sciolto del bitume sopra il vecchio per andare diciamo a renderlo un pochino più resistente e un pochino più legato questo abbiamo visto che in fase di pioggia ha portato non pochi problemi ai team vedendo appunto le vetture scivolare e proprio per questa cosa non sappiamo effettivamente quanto graining ci potrà essere sui long run proprio sui passi gara lunghi visto che in questa prima prova libera hanno fatto praticamente tutti quanti dei lavori differenti abbiamo visto come Red Bull si è messo a lavorare subito con la gomma gialla provando a fare dei mini long run probabilmente per andare a cercare e capire quale sarebbe stato il limite della gomma soprattutto lato graining visto che loro hanno avuto diversi problemi in Australia proprio con questa copertura lavoro totalmente differente quello di Ferrari perché è entrata subito in pista con gomma rossa andando a provare diciamo più tempi da qualifica quindi con poco carico di carburante questo secondo me è legato anche al fatto che Leclerc ha avuto tanti problemi nel giro di preparazione del giro di qualifica quindi nel giro precedente nel quale si vanno a scaldare le gomme scaldare i freni per poi portare la macchina nel migliore delle condizioni per fare il giro della qualifica sicuramente Ferrari ha voluto lavorare tanto su quelle che sono state queste problematiche vedremo poi nella qualifica di domani se queste cose saranno state veramente risolte visto che oggi è stata corsa una qualifica bagnata e non c'è stato modo di capire se effettivamente sono riusciti a trovare una quadra a questo problema pista lentissima e non ci ha dato modo di capire realmente quelli che possono essere stati i valori in campo anche perché un reale passo gara con la gomma gialla l'ha percorso solamente Red Bull Ferrari poi negli ultimi 15 minuti è andata a fare un mini long run con massimo carico di benzina comunque i tempi che sono stati segnati da Red Bull quindi Verstappen e Perez durante il loro long run a metà della sessione quindi quando la pista era ancora molto sporca vede dei tempi che si astestano intorno all'1.42 1.42.2 1.42.8 comunque con molta costanza per ora non ci sono stati particolari segni di graining sull'avantreno si sono anche poi viste su Twitter queste foto di Albert Fabrega che fanno vedere che appunto non è che ci sia stato così tanto graining sulle coperture come ci saremo aspettati quando poi tutti quanti hanno iniziato a testare il giro di qualifica Ferrari ha fatto il contrario quindi si è messo a fare un mini long run molto mini con le gomme usate non hanno approfittato di una nuova mescola ma hanno usato quelle che avevano già montato per fare le loro prove di qualifica però andando a fare un pieno di carburante ovviamente con delle coperture così consumate e un carico di benzina così alto i tempi non sono stati eccelsi e soprattutto c'è stato anche molto degrado in questo caso però è tutto quanto nella norma nient'altro di particolare da segnalare se non comunque una prima posizione di Lance Stroll e una seconda di Oscar Piastri cosa abbastanza normale visto comunque il progressivo miglioramento della pista e quindi così facendo i tempi andavano sempre di più a migliorare entriamo ora nel suco nella parte più specifica di queste sprint race andando a vedere come Lando Norris ha fatto una prima posizione spettacolare sul bagnato nel Q3 andando a mettere tra sé e Lewis Hamilton il secondo arrivato un secondo E3 veramente veramente tanto ottimo ben fatto da parte di Norris e McLaren McLaren che partiva svantaggiata su questa pista per via della conformazione classifica completa che vede Norris in pole position seguito da Hamilton e Alonso vediamo in questo caso come con due macchine non particolarmente performanti due persone con moltissima esperienza in Formula 1 e anche sul bagnato siano riusciti a mettere dietro piloti molto più giovani con vetture molto più performanti infatti sono veramente contentissimo per Hamilton e per Alonso per questa posizione un po' meno per il comportamento che ha avuto la FIA in questo caso visto che tanti piloti sono usciti di pista durante il loro giro veloce e così facendo hanno costretto i commissari di gara a cancellarli tempo una cosa veramente assurda ha dato che sono tutti quanti usciti in un modo che nessuno avrebbe mai potuto guadagnare del tempo quindi io mi chiedo va bene il regolamento che dice di cancellare il tempo se vai con quattro gomme al di fuori della pista ma se non guadagni che senso ha andare a cancellare il tempo? vabbè ce lo faremo spiegare poi dalla FIA cosa che inizialmente è successa anche a Norris ma è stata ben più particolare perché Norris gli è stato cancellato il tempo non del giro in cui è uscito dalla pista ma nel giro successivo questo perché il regolamento parla chiaro se ti esci di pista nell'ultima curva prima del traguardo ti viene cancellato sia il tempo del giro in cui sei uscito di pista sia il tempo del giro successivo questo perché uscendo di pista potresti guadagnare un vantaggio in trazione e quindi riprendere molta più velocità sul dritto quando vai a tagliare il traguardo ed è per questo che gli è stato cancellato appunto il tempo però la FIA ci ha ripensato e è tornata indietro perché sono andati a guardare i microsettori e hanno ben visto che Norris non aveva guadagnato niente una cosa un po' particolare visto che in quel momento Hamilton era abbastanza sicuro di avere la prima posizione magari nell'ultimo giro non ha spinto come avrebbe fatto se avesse saputo che Norris sarebbe stato primo una classica giocata non tanto bella della FIA io spero che queste cose non le vedremo mai più ma sono certo che tanto si risenteranno nel prossimo Gran Premio dalla quarta posizione vediamo Verstappen Verstappen che ha fatto tantissimi errori in questa qualifica la pista era difficile era ovviamente sporca con questo bitume particolare che l'ha costretto tante volte ad uscire di pista infatti gli sono stati cancellati anche diversi tempi Sainz in quinta posizione Perez sesto Leclerc solamente settimo peccato perché da lui mi sarei aspettato molto di più sul bagnato invece ottima prestazione da parte di Sainz che si è messo a meno di due decimi da Verstappen peccato anche in questo caso Piastri lo ritroviamo in ottava posizione si è preso ben tre secondi dal compagno di squadra questo a indicarci quanto cavolo abbia fatto bene Norris Kicksauber nona e decima la loro migliore prestazione dell'anno riuscendo a mettere tutte e due le vetture in Q3 veramente bravissimi un Russell che non riesce ad entrare in Q3 e prende uno schiaffo enorme da Lewis Hamilton seguito da Magnus e Nehulkenberg Ricciardo in quattordicesima posizione Stroll quindicesimo altro schiaffo immenso dal compagno di squadra i classici Alpine Gasly sedicesimo io con dici al settesimo Albon che non è riuscito a performare come avrei sperato diciottesimo Tsunoda diciannovesimo e ventesimo Sargent quindi cosa vediamo di particolare? uno Tsunoda diciannovesimo che non è riuscito a entrare nemmeno in Q2 quando il compagno di squadra ce l'ha fatta con abbastanza slancio visto le enormi prestazioni di Tsunoda nelle gare precedenti non mi sarei mai aspettato una cosa del genere visto che comunque la prima sessione di qualifiche della sprint è stata anche asciutta quindi Ferrari non al top in questa sprint race magari dovuta anche al fatto che non hanno un assetto così tanto carico dal punto di vista dell'aerodinamica vediamo se magari domani in gara le cose cambieranno un pochino di più un applauso immenso da fare assolutamente a Lando Norris che ha condotto un giro spettacolare veramente ha distrutto tutti quanti i suoi avversari anche e soprattutto sono molto contento di Hamilton e Alonso che sono riusciti finalmente a portare le loro macchine un pochino su in griglia se lo meritano assolutamente perché tutti e due stanno facendo un ottimo lavoro vi ringrazio per aver guardato questo video vi ricordo comunque di iscrivervi a Formula 1 in generale perché ogni weekend di gara ci saranno questi tipo di video e soprattutto perché ci trovate qua domani per andare a commentare quella che è stata sì la sprint race ma anche le qualifiche vere e proprie vi auguro una buona giornata e ci sentiamo domani